Ciao a tutti, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Oggi, per l'ultima lezione del risveglio vocale, vi propongo un esercizio che mette insieme gli ultimi due che abbiamo fatto nelle scorse settimane, quindi Lip Rolls e R. E poi aggiungiamo la vocale I e la vocale E, che sono due vocali più frontali nella vibrazione, all'interno della bocca. Il motivo per cui affrontiamo sempre la I, la E o la U è perché sono vocali leggermente più facili da affrontare, soprattutto in un percorso dove si inizia a studiare canto. Se volete approfondire di più la vostra voce, il vostro allenamento, potete seguire anche delle lezioni online che propongo come training vocale tutti i lunedì sera, oppure prenotate una lezione individuale per espormi i vostri obiettivi personali. In questo caso affronteremo insieme un percorso ben strutturato e ad hoc. Quindi, partiamo con l'esercizio Lip Rolls R. I. E. Ve lo faccio sentire e poi partiamo. Cominciamo Cominciamo Mantenendo una postura dritta Flusso continuo ad aria Mantenendo una postura dritta Mi raccomando la mandibola rilassata Controllate la mandibola ancora Mantenendo una postura dritta E scendiamo Mantenendo una postura dritta Spalleri rilassata Spalleri rilassate Mantenendo una postura dritta Non fermarsi, continuare sempre Mantenendo una postura dritta Mantenendo una postura dritta Continuo Mantenendo una postura dritta Mantenendo una postura dritta l'ultimo bravissimi se avete svolto tutti gli esercizi che abbiamo fatto dall'inizio fino ad oggi seguendo anche i tempi sono certa che avrete ottenuto dei piccoli risultati e quindi mi piacerebbe anche avere un vostro feedback di questo risveglio vocale sarebbe veramente importante un vostro commento al video e ai video precedenti siamo giunti quindi alla fine di questo risveglio vocale tutte le dieci lezioni sono stati un percorso per cominciare a risvegliare la voce a renderla più tonica più elastica facendo gli esercizi tutti i giorni ma non è finita qui perché dalla settimana prossima ci sarà una nuova rubrica con dei nuovi esercizi e con dei nuovi obiettivi ma non vi svelerò che cosa ci sarà vi aspetto martedì prossimo sempre alla stessa ora alle 11 del mattino per scoprire la nuova rubrica i nuovi esercizi che vocalessence vi propone vi ricordo di mettere like o di lasciare un commento ai nostri video ricordatevi anche di iscrivervi al canale youtube se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella delle notifiche ciao